La Mazda 2 5 porte ha una lunghezza di 3 metri e 92 centimetri e un abitacolo omologato per 5 persone nel quale spicca il posizionamento della leva del cambio sulla console centrale. Il suo fiore all'occhiello dal punto di vista costruttivo è la scocca realizzata con l'impiego di acciaio ad alta resistenza e dunque particolarmente leggera. Non sono da meno gli apprezzati motori a benzina e a gasolio. Dell'equipaggiamento standard su tutte le versioni fanno parte 6 airbag, il climatizzatore e il controllo elettronico della stabilità. Se la dotazione è più che valida il bagagliaio da 250 a 787 litri non risulta dei più generosi fra quelli delle automobili piccole a due volumi.